Sanjay al negozio di animali andò E un bel servete parlo e te compro Kraya cupadone perfetto trovo E stasciando nelle sue braccia gli urlò Ehi, tu! Come butta? Sanjay e Kray Sono due malati per lo skate Sanjay e Kray Sono dolci parabutti Sanjay e Kray Una coppia di sdoppiati Kray Fa un sacco di guai! Grazie a tutti!